Amici del Game Fair, buongiorno da Giancarlo Milioni. Ci troviamo nello scenario del Parco Nazionale del Gergano e sono in compagnia dei fratelli di Monte. A fianco a me c'è Teresa, Leonardo e Paola. Ricordiamo che i fratelli di Monte sono i proprietari del camping internazionale. A fianco a me c'è anche il gestore della locanda degli artisti, che è il signor Rocco. Buongiorno Rocco. Ci parla un attimo della locanda, come nasce la locanda degli artisti? La locanda degli artisti nasce quasi per gioco. Siamo sempre circondati da artisti qua in questo campeggio. Di frequente ci sono pittori, qualche attore ci viene a trovare. Possiamo dare familiarità a chi viene qua nel nostro ristorante, farlo trovare il suo agio in modo che sente padrone del ristorante. Il nome è molto familiare, perché è uno che entra. Poi, come vedi, siamo circondati da pitture che sono tutti artisti al nostro posto, dove raffigurano un po' Sammenaio, Vicco, Peschi, Cirodi. Così il nostro cliente già vede qua nel ristorante cosa potrebbe visitare poi in giro. Rocco, qual è la caratteristica culinaria della taverna degli artisti? Il nostro piatto forte, perché qua siamo sul mare anche, sono un piatto con gambe, riceci, rucola e una grattugiata di limone, in modo che sente il sapore dei nostri agrumetti. Ci siamo circondati qua a Sammenaio, Rodi, Canneto. Vedo Mimmo a fianco a te, il tuo chef. Cosa ci hai preparato oggi? Allora, ha fatto preparare un po' di cacciagione, perché visto che la manifestazione raffigura un po' quello che è la cacciagione, la pesca, la caccia, ha preparato qualche beccaccia, poi ci sono altri prodotti qua tipici. Mimmo, ci illustri la ricetta? Sì, abbiamo fatto un piatto abbastanza tradizionale di questa zona, una beccaccia fatta alla cacciatora. Chiaramente il piatto è semplicissimo sia da preparare che da elaborare. Quindi, una volta chiaramente pulita la beccaccia, si fa un fondo in padella con dell'olio extravergine di oliva, si mette a imbiondire uno spicchio d'aglio in camicia, con alcune filacce di cipolla anche. Una volta che si è rosolata per bene, ci aggiungiamo l'alloro, che è un nostro aroma di bosco molto particolare, molto fragrante. A piacimento ci possiamo mettere qualche pezzettino di peperoncino o del pepe. Una volta che si è rosolata bene la cipolla, ci aggiungiamo l'elemento principale, che è la beccaccia, la facciamo rosolare da tutti i lati e la completiamo a cottura, facendo sfumare un po' di aceto rosso e poi ci aggiungiamo del vino rosso, sempre locale possibilmente, e lo portiamo a termine cottura. Una volta che il piatto è pronto, si mette nel piatto e l'intingolo che rimane va servito sopra la carne. Chiaramente qui abbiamo aggiunto delle fette di pane abbrustolito e sopra ci abbiamo messo l'interiore della beccaccia, perché anticamente non si buttava nulla, per cui tutto veniva realizzato in modo da portare a consumo totale. Dopodiché si possono accompagnare anche con delle patate cotte nella sanicia, si dice in dialetto, cotte sotto la cenere, che è un ottimo contorno, molto semplice, non c'è bisogno neanche di prepararlo, perché si lasciava la sera sotto il fuoco spento e la mattina si trovavano cotte. Serviva anche per scaldare le dita dei cacciatori, una volta che stavano di mattino presto in mezzo alla neve. A questo punto buon appetito. Ecco qua, noi per esigenza di riprese abbiamo già il piatto pronto, che il nostro cameraman Bernardino ci può inquadrare e non facciamo altro che accingerci all'assaggio. Grazie. Grazie. Grazie.